Migliorare la qualità della vita ponendo come priorità il benessere di tutti. Con queste parole il segretario dell'ospici GL di San Giovanni Appiro, Costanza Florimonte, ha inaugurato la nuova sede del sindacato dei pensionati a sud di Salerno. Nel corso della cerimonia è stato ampiamente evidenziato il ruolo dell'ospici GL, che da queste parti opera da anni nella città di Sapri. Saranno organizzate giornate seminariali, ma anche corsi di pittura, lingua inglese, fotografia e scrittura creativa, tutto questo per diffondere culture e conoscenze alla base di scelte che potrebbero essere utili per la crescita del territorio. E per questo saranno previsti anche incontri nelle scuole per portare a conoscenza dei giovani i contenuti della Costituzione italiana. Tutto questo lavoro, ha evidenziato la Florimonte, sarà condiviso con associazioni e enti locali del territorio ed in particolare con l'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro.